Questa mattina alle ore 8.30 del 21 giugno 2023 per oltre 536.000 studenti in Italia inizia la maturità. Tracce poetiche, storiche e di attualità che hanno fatto anche tanto discutere. La maggior parte dei ragazzi ha scelto la traccia che sottolinea la mancanza di attesa nell'era di WhatsApp, ma quella che appunto ha fatto molto discutere è quella della lettera all'ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in cui si chiedeva di tornare alla vecchia formula pre-Covid. Quella appunto dei due scritti e l'orale, cosa che durante la pandemia è stata sostituita dalla formula ridotta di un solo orale. Che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia B2, quindi riguarda la traccia espositiva, diciamo che riguardava la ricchezza immateriale di un paese, come diciamo influisce sulle aziende mondiali. C'erano tracce poetiche, così, oppure storiche di argomenti, c'era una per esempio su Piero Angela e le ultime due erano due tracce argomentative e ho scelto l'ultima argomentativa che in pratica parlava di WhatsApp, la tecnologia, come ha calato la pazienza della gente. Allora, per me sono state un po' delle sorprese in quanto le prime tracce che riguardavano gli autori non le avevamo fatti affrontati e quindi mi sono più orientata verso il testo argomentativo espositivo e la traccia non era molto semplice, però diciamo che è nata bene, dai. Spero bene, ho azzardato un po' con la traccia, ma un testo di Moravadi che spiegava praticamente le differenze delle classi sociali in un testo e tu da là dovevi fare un riassunto e rispondere a delle domande e avere una, cioè voleva un nostro, un mio pensiero riflessivo. Ho scelto la C2 che parla di WhatsApp, dell'attesa di WhatsApp. Mi sono appunto cimentata nel testo espositivo argomentativo e ho fatto l'ultima traccia quindi che parlava di quanto l'attesa in questo mondo digitalizzato sia vista in modo negativo e quindi come una perdita di tempo. Ho scelto la C2 che è stato il testo argomentativo sull'attualità. La B3, l'intervista con la storia. L'ultima, la C2. La traccia chiedeva di raccontare una riflessione sul tempo, sulla perdita del tempo e sul fatto che siamo abituati a ricevere delle risposte veloci e quindi non riuscire ad aspettare e quindi ho fatto una riflessione su questo. Per quanto riguarda me li avevo comunque un po' previsti perché a parte i due autori che non avevo mai fatto ma comunque si parlava anche della guerra e gli ultimi due temi erano quelli che ho scelto io che erano il primo, quello che ho scelto io è stato quello sull'attesa e che si considera comunque una perdita di tempo e che mette comunque a disagio le persone. La traccia era la C e la tipologia C e comunque parlava dell'attesa dei social e penso sia andata bene, in teoria ho scritto abbastanza e non era nemmeno troppo difficile. Ho scelto la C2 anche perché mi aspettavo altre tracce, non è uscita nessuna traccia di quelle pronosticate nei giorni scorsi quindi ho scelto quella di cui potessi parlare di più. Ve l'aspettavate una traccia del genere? Sinceramente no, ci avevamo visto da TikTok un po' così anche dei giornali, giornali, le tracce e sinceramente non ci avevamo azzeccato mezza, erano tutte diverse. No, c'è stata un'altra traccia, era la C1, parlava di una lettera del maturandi dell'anno scorso e non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo però diciamo che sono andato credo abbastanza bene e sono felice. All'inizio in realtà ero un po' così scettico sulla traccia però alla fine ho scelto quella e quindi credo sia andata bene. Sì, me l'aspettavo e sì, sono abbastanza contento, ho scritto più del solito. Domani la seconda prova scritta in contemporanea in tutti gli istituti è elaborata dal Ministero e che varia a seconda degli indirizzi. Ad esempio il liceo classico avrà latino, per il liceo scientifico ci sarà matematica e per il linguistico ovviamente la lingua scelta.